Io porterò la mia esperienza amministrativa, le mie competenze, la mia voglia di fare un lavoro, di trovare un luogo nuovo, di fare politica con la possibilità di portare anche la mia esperienza. Ecco i vernici del sex partito, cosa hanno detto? Quanti hanno comunicato di eva, interroganza, l'acqua, 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 l'acqua. In alcuni sì, anche se in altre partite, ma gli amici non sono amici. Le esperienze si dividono, ma gli amici non sono amici.